Attilio Urciuolo, comunicazione e marketing, pubblicità offline e smartphone. La Polizia di Bari, coordinata dalla DDA, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di presunti trafficanti di uomini a Bari, Catania e Salerno, a carico di cittadini somali. Sono accusati di associazione per delinquere finalizzata alla permanenza illegale di clandestini in Italia e al successivo ingresso in paesi esteri, favoreggiamento di immigrazione clandestina a scopo di lucro, uso di documentazione falsa, corruzione ed incaricato di pubblico servizio e falso ideologico in atto pubblico. Dalle indagini di squadra mobile di Gossesco è emerso l'utilizzo di canali money transfer illegali usati dai presunti trafficanti per incanalare le somme inviate dalle famiglie dei migranti somali quale prezzo per l'organizzazione dei loro viaggi verso il nord Europa. Attraverso Facebook e altri social network alcuni componenti dell'organizzazione avrebbero avuto contatti con soggetti ritenuti filo-jihadisti vicino al gruppo terroristico somalo Al-Shaab.